Dopo alcuni Open Days, apre in pianta stabile il Museo della Sanità Pistoiese, allestito nell'antica corsia di San Jacopo dell'ex ospedale del Ceppo, un tassello delle iniziative con cui Pistoiese appresta a vivere il 2017, anno della sua proclamazione a Capitale Italiana della Cultura. A partire da sabato 5 marzo il museo sarà visitabile per ora con due visite guidate su prenotazione ogni sabato, la mattina alle 10.30 e pomeriggio alle 16. Un'apertura che verrà successivamente ampliata. La mostra che vi è proposta raccoglie ferri appartenuti alla scuola chirurgica dell'ospedale del Ceppo ed è composta da circa 270 pezzi fra strumenti completi e loro accessori che risalgono al periodo tra il 600 e i primi decenni del 900. Strumenti raccolti in otto grandi teche collocate lungo le pareti dell'antica corsia dell'ospedale sulle quali sono state recuperate le pitture che raffigurano gli antichi capoletti. Il percorso espositivo è poi completato da totem multimediali che propongono immagini con schede di ferri in immagini, oggetti virtuali e video e altri totem sulla storia dell'antico ospedale che parte dalla sua fondazione nel XIII secolo passando alla realizzazione del teatro anatomico sino alla nascita dei regi ospedali riuniti di Pistoia nel 700 per giungere alle più recenti ristrutturazioni operate nello scorso secolo. Altri approfondimenti sono poi riservati alle biografie dei medici più illustri che hanno esercitato la loro arte tra le pareti del nosocomio che ha accompagnato per secoli la vita della città. Tra le curiosità del museo vi è poi anche l'esposizione della macchina del parto uno strumento ostetrico ottocentesco che veniva utilizzato durante le lezioni per simulare il parto. Il museo nel progetto dell'amministrazione comunale si integra in un percorso di visite articolato in quattro tappe con l'avvio nel museo civico di Palazzo di Giano dove saranno esposte opere provenienti dagli sperali riuniti e il microscopio della collezione Puccini con cui alla metà dell'Ottocento Filippo Pacini effettuò le sue prime osservazioni scientifiche. Per passare dunque al museo della sanità pistoiese giungere in piazza Giovanni XXIII con la visione del fregio robbiano recentemente restaurato. Tappa finale il particolarissimo teatro anatomico spazio che rappresenta davvero un unicum dove si svolgevano le lezioni della scuola medica pistoiese.